che presentatore ragazzi e uno e due eccomi qui il mio nome è Luzi direi così su mani e piedi e non sarò certo molto alta ma sono la prima ad assomigliarmi Luzi, Luzi, Luzi 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 Luzi, 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 Luzi Luzi, 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 Luzi Tu sì che è bravo a scheggiare pietre, ma fa fatica a stare in piedi, vivi più o meno da queste parti. Lucy, 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 Lucy... E infine lui Musica e retto Accende i fuori E parla meglio Mi ha detto che Per Firenzina Lui è arrivato A parca a parte Lui è arrivato 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 Lui è arrivato